Ieri si è avuta la prova, per chi avesse dubbi, di che cosa sta accadendo nel pianeta. Napoli non ha mai vissuto per 5 ore consecutive un vento che superava i 100 km orari. Con un cielo color giallo sembrava una tempesta nel deserto, quindi un terremoto atmosferico, un uragano, tempesta, scenari a cui questo paese, questa città non erano abituati. Oggi infatti abbiamo un bollettino da terremoto, abbiamo morto, diversi feriti, danni e una serie di accertamenti che stiamo facendo. Non siamo messi in condizione nel paese di avere previsioni adeguate, perché bollettino di ramato, quell'ufficiale a cui ci dobbiamo attenere, della protezione civile regionale, parlava di allerta gialla, criticità ordinaria. Andatevelo a leggere, quindi un bollettino come ce ne stanno a decine durante l'anno. Figuriamoci allora che cos'è il livello arancione, il livello rosso. Di questo ne abbiamo parlato anche col capo della protezione civile nazionale, Borrelli Arrimini, in occasione dell'Assemblea nazionale dei comuni italiani. Sono previsioni, però mi pare evidente che il paese non investe evidentemente in tecnologie adeguate per prevedere meglio, cosa che fa quando si tratta di strategie militari dovute alle guerre o ai bombardamenti. Mi chiedo che cosa ancora deve aspettare un governo e un Parlamento per invertire la rotta, dopo che cadono i ponti, dopo che si contano i morti, dopo che si distruggono migliaia di alberi, dove cadono tetti di palazzi e scuole. A chi aspettiamo a fare un piano straordinario di messa in sicurezza nel nostro paese? Altrimenti lasciamo i cittadini italiani indifesi, i sindaci da Lampedusa a Bolzano, col cerino in mano, senza risorse, senza mezzi, manco senza previsioni adeguate. Se questo è il paese in cui rimanere a lottare, noi lo dobbiamo sapere, nel senso che finora siamo rimasti completamente soli. E la giornata di ieri dimostra quanta forza ha la mia città. Quindi io voglio esprimere il più forte apprezzamento e ringraziamento a tutte le donne e gli uomini del Comune di Napoli, di tutte le istituzioni, di tutte le partecipate, che hanno fatto un lavoro enorme. Intere strade che erano bloccate, intere situazioni di pericolo immediatamente risolte e stanno lavorando tantissimo, senza possibilità di ottenere il pagamento di straordinari perché le leggi e i governi non ce lo consentono, senza mezzi, senza risorse, eppure con l'amore della propria città, l'amore per i propri concittadini e l'amore per se stessi che di fronte a chi si gira dall'altra parte, come se non è accaduto, a livello nazionale, noi lottiamo. Allora l'appello che io faccio è questo. La situazione è nota. Ne abbiamo discusso anche a Rimini. Il Capo della Protezione Civile Nazionale ha espresso apprezzamento per le mie e per le nostre posizioni. Sinora i governi nel corso degli anni, degli ultimi decenni, di tutte le appartenenze politiche non hanno affrontato in maniera adeguata questa situazione. Adesso stiamo a un punto, secondo me, di non ritorno. O questo governo e questo Parlamento adesso, in questa legge di bilancio, mettono in atto azioni tese a rafforzare la sicurezza del nostro Paese, a consolidare i beni comuni, a mettere i territori e chi li amministra nelle condizioni di avere risorse economiche e quindi invertire la rotta. Oppure quello che è accaduto ieri non è altro che una fotografia, seppure eccezionale, di una pagina che sta diventando ordinaria e abitudinaria nel nostro Paese. Quindi un'ultima cosa, quella più importante, però è il fatto che la città di Napoli tutta, il Sindaco, la Giunta, l'intero Consiglio Comunale, si stringe attorno alla famiglia di Davide Natale per questa morte così tragica, così drammatica, così assurda che viviamo nei nostri tempi dove stamattina il bilancio è di nove morti per il terremoto atmosferico avvenuto nel nostro Paese.